La cosa più difficile sarà gonfiarlo. Allora, l'idea è, in sostanza, voi siete in una situazione in cui non avete una custodia per il coso, ma avete un pallone. Se io devo andare in spiaggia, ad esempio, ho paura che mi entri la sabbia, ho paura che si bagni, con questo creo una custodia. Aspetta. Vai, altrimenti chiamiamo il nostro colonnello laureato. Ho fatto decine di prove. Sì, che lui è bravissimo. Esatto, adesso che arriva il difficile. Guardate come si fa. Anzi, lo metto così che si vede meglio. Guardate, attenzione, non fate caso ai rumori. Ce la posso fare. Guarda. Fermi, fermi. Forse viene. Ce l'ho fatta. Praticamente, vedete, in questo modo, io ho la mia custodietta così, che mi permette di avere, vedete, la cosa e se prende un po' di salto non ce n'è niente. Tadam! Grazie. Grazie.